Un'altra sconfitta della mia squadra, noi abbiamo fatto le ultime tre partite, se aggiungiamo la quarta con Milano dove abbiamo fatto tantissime cose ottime e buone su tutti i due allenanti del campo, dimostrando anche di essere vivi al di là dei problemi che abbiamo in questo momento qua, sia fisici, di infortuni, oltre al fatto di dover tenere fuori due giocatori per turnover e purtroppo è la terza partita, soprattutto le ultime tre, dove facciamo delle grandi cose e non portiamo a casa niente oggi è la terza partita dove riusciamo a ribaltare completamente l'inerza e andiamo davanti e poi non abbiamo la forza di prenderla poi dopo è evidente che anche oggi, nei momenti cruciali, Varese ha trovato tre grandi cose da situazioni individuali soprattutto due grandi canesti da tre punti e noi purtroppo non abbiamo fatto la stessa cosa di là eravamo riusciti bene a ribattere punto dopo punto e purtroppo negli ultimi minuti e 40 non abbiamo avuto questa forza quindi sono molto dispiaciuto perché probabilmente poi per tutto come avevamo fatto anche la seconda parte della partita se avessimo fatto bene questi due minuti avremmo assolutamente meritato di portarla a casa grazie grazie grazie